A cascare nella rete dei truffatori telematici, stavolta un 22enne autotrasportatore di Bassano, facciamo attenzione perché si tratta di una truffa un po' nuova. Il giovane nei giorni scorsi aveva avuto contatto con un uomo da un numero delle poste italiane per questioni personali sulle carte di credito. Qualche giorno fa ha ricevuto un messaggio dove ha letto che avrebbe dovuto contattare un numero, quello vero, delle poste online perché le sue carte di credito erano state bloccate. Il ragazzo ha chiamato quel numero senza sapere che il numero vero è stato nel frattempo clonato. Gli risponde un uomo asserendo di essere l'addetto delle poste e gli dice che deve eseguire dei passaggi con diversi codici dal cellulare che qualunque messaggio riceva da quel momento in poi lo avrebbe dovuto cancellare in tutta fretta. Il ragazzo esegue esattamente quello che gli viene detto ma a un passaggio cancellando uno dei tanti messaggi riesce a leggere in velocità la parola Congo come se fosse stato fatto un acquisto con la sua carta di credito dal Congo e la cifra 1.300 dollari. Cerca di richiamare ma in vano sta di fatto che dalla sua carta di credito con questo nuovo imbroglio telematico sono usciti con il cambio della moneta 1.200 euro più altri 2.900 euro per un totale di oltre 4.000 euro. Quindi massima attenzione indaga la polizia postale.